Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Allora, oggi siamo con la preagonistica delle piccole che vedete sono cresciute un sacco forse qualcuna se la ricordano sul canale ed era piccolissima, invece sono diventate giganti oggi ci faranno vedere il loro elemento preferito a... Trave! Trave, ok, chi vuole iniziare? Presentatevi perché magari qualcuno non si ricorda come vi chiamate, eh? Ciao, io sono Laura e il mio elemento preferito a Trave è la ruota Ok, facci vedere la ruota Chi va? Nessuna! Nessuna, vai Ali! Ciao, mi chiamo Alice e il mio elemento preferito a Trave è la pop-up work on earth Ok Aspetta, parla forte! Io sono Nike e il mio elemento preferito a Trave è il ponte Ma si scende così, salame! Ok, poi vai, lavi! Ciao! Ehi! Ciao, io sono la Vigna e il mio elemento preferito a Trave è il ponte Vediamo se la Vigna si alza un po' più elegante Grazie Che tocca? Ciao, io sono Anita e il mio elemento preferito a Trave è il ponte Miravescio Ponte Miravescio Nooo, riprova, vai! Ok Ciao, io sono Viola e il mio elemento preferito a Trave è il ponte Pure tu! Nooo, riprova, vai! Chi manca? Sono Lauri Ciao, io sono Aurora e il mio elemento preferito a Trave è la squadra La squadra, aperta o chiusa? Aperta Aperta Ok, allora, mettiti dietro che non vieni ripresa Allora, intanto fateci superare se vi è piaciuto il video Poi se raggiungiamo i... Poi se raggiungiamo i... Primo video Meno male che c'è Viola che si ricorda la... Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è